Sceglie bene però! Fabio Marta sulle braccia a salutare! bravissimi Sceglie ben gli uniti mi raccomando non facciamo gli spazzaneve che ormai siamo bravi No stiamo troppo vicino Chiara, non riesco a riprendermi tutti e tre vai salutate l'oratorio ciao noi ormai siamo tutti i campioni dai 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 ciao leno bravissimi